Buongiorno a tutti, con un po' più di voce, beati voi che siete da Rezzo, a Firenze, come sapete la situazione non è proprio rosea come potrebbe sembrare, sicuramente questa mancanza di voce dipende anche dal clima, quando si vive a Firenze tra l'aria, il rumore e i fiorentini, la situazione, e ve lo dico da fiorentino, la situazione non è mai propizia a mantenere uno stato di salute soddisfacente. Le notizie sarebbero milioni ovviamente, ci sono notizie che riguardano la crisi economica in Italia, che non si sa più come sta, il governo la nega, l'opposizione la riafferma, in realtà poi arriva la Confindustria e chiede soldi perché vede che sta crollando il castello che qualche volta era un castello di carte del sistema economico italiano. Ma purtroppo nei tempi arretrati, nei periodi di involuzione siamo costretti a parlare di religioni e di sacerdoti e la notizia che viene dal Sudafrica è stupefacente, nel momento nel quale in Tibet si sta riprendendo l'ondata di repressione anche violenta da parte dell'autorità di Pechino sui sacerdoti tibetani. Il Sudafrica ha negato al Dalai Lama il visto d'ingresso per prendere parte a una conferenza di premi Nobel per la pace in programma venerdì prossimo 27 marzo a Johannesburg. Dice che il portavoce della presidenza sudafricana Masebe ha detto che il mondo guarda al Sudafrica come nazione ospite dei mondiali e non vogliamo che altre cose riscaldano l'attenzione. La presenza del Dalai Lama avrebbe invece portato altri temi alla ribalta. Questa è una giustificazione degna di Giovannardi, di Cicchitto, di Schifani, di Gasparri, sembra Gasparri il portavoce del governo del Sudafrica. Francamente ci sfugge come il momento nel quale la religione tibetana, il premio Nobel tibetano, il Dalai Lama, sono soggetti ad una forte ondata di repressione, il momento nel quale il Papa di Santa Romana Chiesa viaggia e dice tutto quello che gli passa per la mente senza pensare poi agli effetti che è questo modo di dire più che altro che i contenuti li sapevamo già anche prima, ma i sistemi vengono a realizzare come dire a creare le reazioni, il Dalai Lama viene in qualche modo censurato dal Sudafrica che dovrebbe invece ricordarsi di come poi le minoranze e soprattutto quelle vessate violentemente hanno diritto, il Sudafrica dovrebbe saperlo bene, alla libertà almeno di movimento e almeno d'opinione. Naturalmente gli altri premio Nobel hanno già annunciato che se non ci sarà il Dalai Lama non ci andranno nemmeno loro, in particolare lo ha detto Desmond Turu e anche l'ex presidente sudafricano De Klerk che è Nobel del 1993, insieme a Mandela a quei tempi. Veniamo al Papa, l'arcivescovo Bagnasco che è il capo della conferenza episcopale italiana che è un po' il governo del Vaticano è parecchio arrabbiato perché dice che il Papa è soggetto ad attacchi concentrici specialmente dai paesi occidentali, chiaro in Cina non credo a nessuno affreghi niente del Papa e tantomeno in Russia per esempio, tantomeno in India del Papa di Santa Romana Chiesa non importa praticamente niente, questo non è bello però è un dato di fatto e non è bello nemmeno pensare che i credenti cattolici, quelli che non sono d'accordo col Papa si trovino coinvolti questo turbine, la Santa Romana Chiesa meritava di più ma quando fu eletto il pastore tedesco Ratzinger che già da decenni era un po' il terrore dei cattolici illuminati non potevamo aspettarci niente di meglio ma di sicuro sta andando anche oltre ogni previsione e dicevo appunto che Bagnasco dice che il Papa viene bersagliato in modo che non è accettabile, questo probabilmente in qualche caso è anche vero perché circolano anche vignette piuttosto violente e anche abbastanza offensive, d'altronde dare la colpa agli altri degli effetti delle proprie azioni, delle proprie parole è abbastanza non cattolico, infatti si dovrebbe sapere anche da parte di questi saggissimi e istruiti personaggi di Chiesa che chi semina vento raccoglie tempesta. Ora a Firenze non vogliamo essere da meno per cui una polemica analoga è in corso fra il Vescovo di Firenze, Betori e il Presidente del Partito Socialista Italiano Riccardo Nencini che è anche Presidente del Consiglio regionale della Toscana il quale accusa Betori dal Vescovo di Firenze di essere stato eccessivo quando ha definito un atto offensivo e distruttivo una sciagura deliberata la decisione del Consiglio Comunale di assegnare Beppino Englaro, la cittadinanza allora era di Firenze. Su Beppino Englaro che per fortuna non ha preso la testa del Partito Socialista, benché si dichiari socialista, ma insomma non è automatico che se io sono in qualche modo liberale debba prendere la testa del Partito Liberale, su Englaro si sta scatenando l'opposto e cioè questa volta a seminare vento sono stati socialisti fiorentini e toscani e ora raccolgono la tempesta dovendosi schierare dichiaratamente contro il Vescovo, il che sicuramente sarà piacere di anticlericali incluso il sottoscritto, però se ne poteva fare tranquillamente a meno perché Englaro dovrebbe rientrare tra le persone normali che in Italia decidono di avvalersi della giustizia statale e della legalità e di far giustizia delle volontà della propria figlia e non diventare uno scudo, una labarda con cui attaccare il resto del mondo oppure con cui riportare il proprio Partito, la propria informazione politica ai fasti del passato laico e anticlericale. Questo è tutto, 8.42, nell'esperienza che domani la voce sia ancora migliore di oggi vi restituisco la linea alla fantastica Arezzo Wave, anche Radio Wave International. Ciao a tutti da Claudio Gherardini.